Ciao e benvenuti al tavolo italiano. Sono sempre molto contento quando studiate con me. Allora, ok, i verbi inglesi preposizionali, lezioni se, con la preposizione up. Con questa lezione vorrei cominciare a studiare le esprezioni idiomatiche, in particolare i verbi preposizionali. In questo video cominceremo con i verbi con la preposizione up. Ci sono molti verbi che hanno un significato diverso quando sono seguiti da up. Qualche volta il significato è simile al significato originale del verbo. Per esempio, to write o scrivere è write up. Che può significare un documento che un capo scrive quando un impiegato fa qualcosa di male. He wrote him up for coming to work late. O un articolo in una rivista. Altre volte, il significato è molto diverso dal significato originale, del verbo. Per esempio, to give significa dare, ma to give up significa rinunciare. I give up. I just can't do it. Non c'è una regola che può aiutarvi a sapere questi significati. Avete bisogno di imparare ogni significato. Guarderemo alcuni di questi verbi qui. Ok? Cominciamo. Guarderemo il verbo infinito e il suo significato. Poi guarderemo il significato se il verbo è seguito dalla parola up. Ma prima vediamo il significato generale della parola up. In inglese, up può essere usato come un avverbio, un aggettivo, un sostantivo, un verbo o una preposizione. In questa lezione, definiamo up quando è usato come preposizione. Per dirlo semplicemente, l'ho trovato su Google. da un minore ad un punto più alto, qualcosa, verso l'alto lungo, si arrampico su per una rampa di scale. Tuttavia, quando up sta stessi quando un verbo, il significato può essere diverso o cambia solo il significato del verbo. Va bene? Cominciamo. Cominciamo. To throw, lanciare. O, to throw up, vomitare. To give, dare. To give up, rinunciare. To dream, sognare. To dream up, avere un'idea. To put, mettere. To put up, sopportare. To run, correre. To run up. Fare il tuo conto di più grande. Accumulare. Per esempio, se puoi comprare più vestiti con la tua carta di credito, perché il tuo conto è diventato più grande. To keep, tenere. To keep up. Andare a fare qualcosa abbastanza veloce per essere uguale a un'altra persona. To screw, avvitare. To screw up, fare qualcosa di male. To shoot, sparare. To shoot up, sparare o drogarsi utilizzando un ago. To break, rompere. To break up. Quando due persone non sono più innamorate e si lasciano o un gruppo musicale decide che non vuole suonare più insieme. To blow, soffiare. To blow up. Esprodere. To pick, scegliere. To pick up. Prendere. To show, mostrare. To show up. Arrivare. To stop. Fermare. Stop up. Blocare. To come. Venire. To come up. Trovare qualcosa di cui qualcuno ha bisogno. Per esempio, he came up with an idea that worked. Or, she came up with enough money. To feed. Nutrire. To be fed up. Solo al tempo passato. Basta. Avete capito tutti i significati? Va bene. Facciamo un piccolo esame. Dirò un verbo preposizionale in una frase inglese. E voi direte il significato o l'esempio giusto. Vi darò alcune risposte tra cui potete scegliere. Cominciamo. He threw up after dinner. A. Ha lanciato qualcosa dopo cena. B. Ha lanciato il cibo durante cena. C. Ha vomitato dopo cena. Quale risposto è giusto? C. Ha vomitato dopo cena. 2. He screwed up the tent. A. Ha avvitato male la tenda. B. Ha avvitato la tenda a terra. C. Ha avvitato la tenda all'albero. Quale risposto è giusto? A. Ha avvitato male la tenda. 3. He shows up late. A. Lo mostra e è in ritardo. B. Arriva in ritardo. C. Mi mostra qualcosa più tardi. La risposto... Il risposto è giusto. B. Arriva in ritardo. Quattro. He will come up with something to help us fix the car. A. Troverà un modo per aiutarci a riparare la macchina. O. B. Viene per aiutarci a riparare la macchina. La risposto giusto... O, scusi, il risposto giusto. A. Troverà un modo per aiutarci a riparare la macchina. 5. He gives up early. A. Aiuta le altre persone in anticipo. B. Rinuncia presto. C. Lui dà qualcosa a qualcuno alla mattina. È il risposto giusto? P. Rinuncia presto. Com'è andata? Bene. Se no, non preoccupatevi, perché potete esercitarvi con questo video tutte le volte che vi servono per imparare questi verbi preposizionali. Allora, spero che questo video vi aiuterà con l'inglese. E non dimenticatevi che potete trovare più lezioni di inglese su www.iltavoloitaliano.com. E per favore, se vi piace, ditelo ai vostri amici e mettete un like su Facebook. Ciao, grazie per aver studiato con il tavolo italiano e speak English. Ciao, grazie per aver studiato.